Da domenica la regione Abruzzo torna in zona arancione e quanto emerso nel monitoraggio settimanale effettuato dalla cabina di regia presso il Ministero della Salute. Il peggioramento dei dati e l'inasprimento dei parametri nel nuovo decreto sono le cause delle nuove limitazioni che riguardano la gran parte delle regioni. L'Abruzzo fa registrare un R-T di 1.11 appena superiore al dato medio nazionale che si assesta su 1.09. Con l'Abruzzo altre 11 regioni saranno arancioni. Vanno in zona rossa Lombardia Sicilia e provincia autonoma di Bolzano, in zona gialla Basilicata Campagna Molise Sardegna Toscana e provincia autonoma di Trento. Il presidente della regione Marsilio in tarda mattinata ha ricevuto la comunicazione dal Ministro della Salute Speranza ed ha così commentato i nostri microfoni confidando peraltro in un cambio di passo sui ristori. Purtroppo le nuove regole che ha inserito il governo con gli ultimi decreti che sono quelle di abbassare la soglia per l'ingresso in zona arancione dell'R-T e di introdurre anche l'ulteriore parametro che con il rischio alto ci si finisce subito, non bisogna più attendere tre settimane, diventa molto più semplice accedere in zona arancione. Noi avevamo questa settimana registrato a livello di impatto basso, un rischio moderato, purtroppo l'R-T è a 1,12, c'è una media nazionale che è intorno alla stessa cifra, molte regioni tornano in arancione, qualcuna finisce in rosso, è un'ulteriore mazzata alle attività economiche che da pochi giorni, alcune delle quali avevano riaperto da pochi giorni, non cambierà nulla per le scuole, invece continueranno ad andare avanti come stanno andando avanti in questi giorni dopo la ripresa, dopo la Befana. Quello che chiedo al governo ha maggior ragione di fare presto con il nuovo decreto ristori, con l'ennesimo decreto ristori, di mettere finalmente tutti i soldi che servono, di fare in modo che possano arrivare a tutte le realtà, le attività che sono state colpite, non soltanto quelle che hanno avuto direttamente delle restrizioni, ci sono categorie che pure potendo continuare la loro attività economica hanno comunque subito danni pesanti, perché se no un pezzo dell'economia del nostro territorio rischia di non risollevarsi, peraltro nel nuovo DPCM che ha appena firmato Conte c'è anche il rinvio al 15 febbraio della riapertura degli impianti di risalita per il turismo invernale e questo significa che per almeno una parte importante delle stazioni sciistiche è come aver di fatto chiuso già la stagione. Intanto il bollettino Covid in Abruzzo fa registrare 249 casi su 3.254 tamponi, tasso di incidenza del 7,3% nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 6 mesi e 90 anni. Sono residenti o domiciliati 50 in provincia dell'Aquila, 34 in quella di Chieti, 126 in quella di Pescara, 43 in quella di Teramo. Quelli di età inferiore a 19 anni sono 42, di cui 11 in provincia dell'Aquila, 23 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Teramo. Poi sono 4 quelli di fuori regione mentre sono in calo di 17 unità i casi per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. In generale sono 38.834 i casi di coronavirus riscontrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. I decessi salgono a 1.311 con i due casi registrati nelle ultime 24 ore, una 76enne dell'Aquilano ed un 77enne del Pescarese. Il totale dei dimessi gueriti è di 26.276 più 171 rispetto a ieri, mentre sono 484 i ricoveri attuali totali, 443 ordinari, meno 10 rispetto a ieri, 41 in terapia intensiva più 1 rispetto a ieri. 10.763 più 76 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.247 più 67 rispetto a ieri.